buongiorno buongiorno dal dottore claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola un metodo unico al mondo unico lo dice il sottoscritto che prima di approcciarsi nel 2008 a questo metodo le aveva approvate tutte corsi internazionali di ipnosi ottimi nessuno dice il contrario però che non hanno nulla a che vedere con l'ipnosi dcs vera professionale di los angeles bever hills detto ciò premesso ciò rispondo ad un signore che mi dice dottore ma se una persona non nasce con quelle qualità atletiche può diventare il calciatore più forte del mondo con l'ipnosi dcs vera professionale la risposta ragazzi è sì 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 anche se il pensiero comune del greggio dice di no molti hanno scritto tantissimi libri personaggi famosi e non nel mondo anche dell'ipnosi dicendo che se tu non nasci con delle caratteristiche già di base tua non può fare nulla con l'ipnosi sciocchezze sciocchezze altrimenti uno mi deve spiegare come mai succedono i miracoli della mente anche per malattie gravissime ogni santo giorno come mai negli ospedali di tutto il mondo con l'ipnosi si eliminano i dolori per operazioni di alta chirurgia come mai leggiamo su tutti i giornali social del mondo in tutte le lingue che dalla sera alla mattina una persona ha cambiato la sua esistenza la sua vita dopo anni anormo distenti eccetera eccetera non è detto ragazzi questo te lo racconta il greggio siccome l'uomo in generale è indottrinato ipnotizzato tra virgolette a ragionare come ragiona la massa il greggio e che cosa pensa si ripetono tutti le stesse cose che qualche pastore ha buttato lì e quindi tutti lo seguono ma non è vero tu con l'ipnosi anche con l'ipnosi e soprattutto con l'ipnosi di cesse perché è molto importante la parola il metodo e il metodo di cesse unico al mondo puoi arrivare dove desideri senza mai senza se non lo dico perché puoi anche non arrivarci ma dipende sempre dal tuo subcosciente rifletti chi conosce il tuo subcosciente chi conosce l'88 per cento della tua mente chi conosce la tua anima il tuo cuore chi lo conosce nessuno solo te stesso te stessa per cui non credere al greggio ai pastori ai poteri forti dai una chance alla tua vita e se segui le istruzioni molto facile la prova di un nonno alla prova di un pigro alla prova di un idiota tu potrai dire montagna sposta della montagna si sposterà e chi hai davanti a te c'è il sottoscritto con questo potere mentale con l'ipnosi di cesse vera e professionale ho cambiato la mia esistenza dalla sera alla mattina dopo anni enormi distenti partito da una famiglia poverissima da studente lavoratore senza una lira in tasca ho fatto mille lavori umili adesso sto bene ragazzi per le prossime 37 vite grazie al mio subcosciente soprattutto all'ipnosi di cesse vera e professionale che nel 2008 mi ha stravolto la vita della sera alla mattina tu immagina 2008 c'era la crisi non lo dico per vantarmi ma per ispirarti perché in tutti i libri letti da me ho letto più di 2000 libri eccetera si parla sempre di cose che hanno già detto altri ma non si va nei particolari nessuno ha vissuto quelle esperienze sono gente che racconta ciò che ha letto e come una catena di sant'antone si è propagata in tutto il mondo in tutte le lingue la velocità della luce ora a te scegliere e capire di cosa sto parlando perché ti prego di non credere a nessuna parola del sottoscritto puoi scaricarti un audio mp3 dicesse solo a te la scelta che fa il caso tuo al caso dei due cari perché l'ipnosi dicesse funziona anche per chi non vuole essere aiutato che non può essere aiutato bambini adulti anziani aspetto le tue domande non credere a chi ti dice non puoi neanche con l'ipnosi cambiare la tua vita al 101 per cento perché sono tutte sciacchezze o hai o non hai certi limiti di partenza non significa nulla i miracoli della mente ripeto ancora una volta succedono anche per chi parte zoppo o cieco o sordo e la storia dall'antica grecia dall'antico egitto dall'antica roma è piena di casi emblematici che io ho letto in libri del 1600 1700 1800 per cui chi dice no ma se non sei ma no perché se i dubbi caro mio collega o non collega tu sicuramente non ci riuscirai fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.ipronologiassociati.com la mia fan page su facebook il primo saluto i prosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube e benessere i prosi soluzioni di cesser dottor calcio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere i prosi soluzioni di cesser dottor claudio saracino un bacio un abbraccio e credi in te stesso in te stesso ciao